Dottor Giorgio Palmeggiano, direttore sportivo della città di Isernia Fraterna Rocca Sicura, oggi sul campo. Abbiamo ripreso gli allenamenti finalmente, dopo un inizio che era un po' incerto della settimana scorsa, nell'attesa delle decisioni del Comitato Nazionale, che poi alla fine sono arrivate. Venerdì si è deciso, a quanto pare, che finalmente il campionato riprenderà. Sì, venerdì c'è stato un consiglio direttivo lunghissimo a Roma. Ma alla fine di tutto questo è venuto fuori che il campionato eccellenza deve continuare. Ora chiaramente ci sono dei passaggi successivi, che sono la dichiarazione di interesse nazionale del CONI e poi le date esatte della ripartenza, però almeno abbiamo saputo che sicuramente deve ripartire. E questo per noi è già tanto. Bene, allora a questo punto possiamo riprendere la domanda che avevamo lasciato in sospeso alla nostra ultima intervista, ovvero il rinnovo della Rosa. È arrivata l'ora di presentare questi ragazzi che andranno a rimpolpare le fila della città di Sernia. Andiamo in ordine, diciamo, dal più grande al più piccolo. Allora, il più grande è Francesco Vitelli, che è un nome, diciamo, molto conosciuto qui in Molise. È un attaccante che ha giocato per tanti anni già qui in Molise, ha giocato in tante squadre, ha giocato a Campobasso, ha giocato già, qui se lo ricorderanno, col Fornelli. È un ragazzo che ha fatto tanta serie D e viene sicuramente a dare un tocco di estro, di fantasia, di classe al nostro attacco. Poi abbiamo un ritorno in Molise che è Felice De Vizia, un classe 92, giocatore polietrico, giocatore che può giocare centrocampista, trequartista, esterno. Quindi è anche lui un ragazzo ex Termoli, ex Vasto Girardi, che insomma qui in Molise ha già fatto molto bene e speriamo farà ancora meglio con noi. E in ultimo, il più giovane dei tre, è Enric Nembott, ed è un ragazzo di scuola a Benevento. Ha fatto la primavera con il Benevento. Poi è passato quest'anno a Sorrento, in serie D, e adesso viene a aiutare il nostro centrocampo. Enric è un giocatore, lo vedrete in intervista molto possente, è un ragazzo di un metro e 92, 90 chili. È un centrocampista di grande sostanza, quindi sicuramente ci sarà di grande aiuto. Allora direttore, lei ha già avuto modo di saggiare un po' questi ragazzi, anche vedendoli in allenamento. Immagino che l'aspettativa sia tanta e che i tifosi possano essere ben felici di questi nuovi acquisti. Beh, io credo e spero di sì. Adesso poi il campo è sempre sovrano, quindi si deciderà chiaramente poi sul campo. Io, diciamo, la direzione normalmente cerca di fare il meglio possibile per la squadra. Poi il rettangolo verde è sempre quello che dà le risposte. Noi sicuramente siamo fiduciosi perché questo trio di ragazzi sicuramente viene per migliorare quella che è una rosa già comunque importante.